Bene, hai ripassato finora un po' di complementi, i più importanti, adesso devi metterti in gioco. Consiglio, prendi il tuo quaderno degli esercizi e poi individua i complementi che ho evidenziato in verde, fermando ovviamente questo video. Ci sono due pagine, sono in tutto 15 frasi. Quando avrai finito di individuare i complementi della prima pagina, potrai far ripartire il video e troverai la soluzione. Proseguendo, ci sarà un'altra pagina con altre frasi e altri complementi e successivamente la soluzione. Buon lavoro! Grazie! 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 Grazie!